adesso tu mi spieghi no mi spieghi come hai fatto a prendere quello adesso mi dici come hai fatto a prendere quello vieni qui il martello è preso quel martello pesa anche per claudia come hai fatto fatto un paio di mutande che ci fai sono pure vecchie rotte se tu che vuoi allora qui vedo un cane che sta aiutandoci a fare pulizia in casa giusto no non era quella la tua intenzione era solo quella di distruggere gupta dovete sapere che in questa casa è anche detto a caixa noi finito fa vedere qui che che hai preso che hai preso non si fa non si fa chiaramente più dice non si fa e lui lo fa non si fa boroboro assa ecco questo è quanto i nostri cani possono darci una mano cioè andrà inutile che ti ci impegni anche te c'è la bocca piccola sì dov'è che l'hai ammaccato eccolo lì l'ammaccatura non si ruba le da ma me e adesso che hai rubato eh che hai rubato quel pezzo serve per la la cosa la lavatrice fammi vedere che guarda che che occhi cattivi che fa non si distrugge beh vogliamo togliti ci si allaga la casa così dai rimettilo alla porta avanti rimettilo alla porta non non è per giocare per giusta messo non è per giocare anzi non si fa lo scemo se abbiamo capito che c'è una mascella terribile per favore gupta si riempie d'acqua la casa di chi è quello ora che già smontato la testa e si esplode come succede spesso di chi è quello adesso sei soddisfatto hai fatto il tuo lavoro di distruttore tu hai preso di chi è l'ho preso l'hai dato perché sapevi che c'era questo è guarda con che guarda con che hanno gioia si mangia le cose dopo aver rubato si si te si te fa vedere quella faccia da cattivo delinquente che adesso facciamo un mugshot per quando va in galera ti mando nella galera dei cani vuoi vedere ladro 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 guarda là non si ruba niente basta che ansia mamma mia che ansia puoi smettere di fare il jack russell per tre secondi essere un cane buono sei buono solo quando dormi tu sempre a pensare che rubare che fare a ridonga basta un po basta e ma mamma mannaggia mamma ma adesso ti mettono in una scatola e ti lasciamo sull'autostrada vuoi vedere come ti lasciamo sull'autostrada? sì 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 no fai zuzzeria mi raccomando perché poi chi pulisce e chi pulisce guarda che l'altro gli da una mano c'è andrà almeno tu facciamo vedere che siamo una famiglia seria qua i ladrones fammi capire fammi capire visto che non hai ricevuto niente hai deciso di distruggerlo sei proprio convinto questa è la fine che fai fare alle cose che ci rubi se non vieni pagato cos'è un avvertimento è un avvertimento un avvertimento canino guarda che occhietti cattivi che fai che hai preso sto registrando un crimine ma tu non lo vedi sia sai gupta cioè proprio sei recuperabile non ti posso neanche mandare in un centro di recupero a te